momento tra le fibrillazioni che ha sottolineato l'onorevole Centemero all'interno del Partito Democratico, le difficoltà ovviamente anche del popolo della libertà, Grillo che dice che questa proposta di legge è in realtà un modo da parte del Partito Democratico di fare una sorta di favore a Berlusconi, poi leggeremo meglio l'agenzia, però lei che cosa ne dice? Caro direttore sono totalmente d'accordo sulla complicatezza del momento intanto, devo dire che è in tutta evidenza questa proposta, questo disegno di legge che è fatto al Senato di alcuni deputati del PD tra cui il capogruppo, mi sembra muoversi nella direzione di una indicazione meno tranciante per Berlusconi perché in questo caso ci sarebbe, se dovesse essere attuato, dovesse essere approvato questo disegno di legge, ci sarebbe non la condizione di inelegibilità bensì la condizione di incompatibilità che è, come tutti sanno, risolvibile nel momento nel caso si effettua un'opzione e oppure si rimuove la condizione stessa. Ma il punto è un altro, siamo nelle condizioni oggi con questo clima, con questa atmosfera, con questi baluginamenti di guerra, siamo nelle condizioni di approvare un disegno di legge che metta mano ad una necessaria ristrutturazione di una legge, lo ricordava la collega, che è vecchia, che è del 57, che prevedeva casi che si sono notevolmente modificati nella loro dimensione e nella loro portata oggi. Io ho paura di no, ho paura che non ci sia il clima, non ci siano le condizioni per farlo, mi augurerei di sì ma non credo che ci siano le condizioni per farlo. Chi ha avuto occasione di sentire altre volte su questi argomenti la mia posizione sa bene che io sono del tutto d'accordo con Cuperlo sul tema. Non è possibile che sia ancora il Parlamento a decidere sulle situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità e di incandidabilità dei propri membri. Questo deve fare un organo terzo, che può essere la Corte Costituzionale, che può essere un'autorità indipendente, perché il Parlamento esprime maggioranze e le maggioranze evidentemente rispondono a criteri politici e non giuridici. Allora, all'interno di questa complicata situazione bisogna trovare il bandolo della matassa senza mortificare il governo e soprattutto senza mortificare il Paese. Questa è la complicazione a cui lei faceva riferimento e a cui io aderisco totalmente nel giudizio, nel giudicarla appunto difficile e complicata. Grazie Presidente Pisicchio, per ricordare che il direttore di NOS24 è Monica Maggioni. Dico che Beppe Grigio...